Come tutti gli anni, aspetteremo l'arrivo della primavera. Da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo. Da una stanza diventata troppo stretta. Da un cortile muto. Come tutti gli anni, sarà la Primula, il primo fiore a svegliarsi. Ma questa volta, la sua rinascita è anche la nostra. Viene a dirci che il momento è arrivato di abbandonare l'incertezza e schiudere i nostri colori alla luce del sole. Che ci vedrà ancora una volta insieme. Come Primule, che hanno sfidato il gelo. L'Italia rinasce con un fiore.